Bentornati diavoletti e bentornate diavolette qui su LR Channel sto per partire per due giorni al mare non vi dico cosa andrò a fare ma lo vedrete molto molto presto sul canale non solo per i vlog ma anche per altri tipi di video come avrete già capito dal titolo questo video invece è sulle 5 strategie per fare una valigia perfetta quindi se siete curiosi di sapere quali sono le mie 5 strategie e come faccio io la valigia ovviamente non vi rimane che guardare questo video ma prima vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla ok bentornati e bentornate come vedete dietro di me potete già vedere il letto praticamente pieno di cose da infilare in valigia sono molto felice di farvi questo video perché a mia volta mi è stato veramente molto molto utile per capire come realizzare le mie valigie io viaggio tantissimo, spesso vado all'estero per cui se volete vi farò anche un tutorial su come organizzare la valigia per l'estero che è un po' diverso rispetto a quando si viaggia semplicemente in macchina, non si deve andare in aeroporto eccetera 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 quindi fatemelo sapere magari con un like e con un commentino qui sotto ma veniamo a noi praticamente ci sono 5 regole che io seguo assiduamente per non dimenticarmi niente e per portare più roba possibile e meno spazio possibile regola numero 1 ed è proprio la numero 1 meno colli possibili quando si va in giro con tantissime borse, tantissime valigie purtroppo può capitare di dimenticare qualcosa o di non ricordarsi dove si è messo cosa quindi ah ma quello dove l'ho messo, ma quello dove l'ho messo, ma quello dove l'ho messo io ho imparato soprattutto per quanto riguarda tutti i viaggi che ho fatto da musicista dove i colli erano importanti perché insomma chitarre, ricambi delle corde di chitarre, microfoni, cavi, aste, regi microfoni, regi chitarre insomma diventava abbastanza impegnativo ho imparato proprio lì la tecnica di utilizzare meno colli possibili per cui oggi ho preparato una valigia di media grandezza per quanto riguarda vestiti e scarpe che sono questi e andranno messi qua dentro e una valigetta per quanto riguarda trucchi e igiene personale per cui bagno schiuma, accessori per capelli, per la doccia, gioielli vari eccetera 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 secondo step, seconda strategia, fate una lista fare una lista delle cose che vi servono vi permetterà di non dimenticare a casa niente e soprattutto di portarli indispensabile senza poi finire a portarvi 10.000 cose inutili che fanno peso, occupano spazio e non vi permettono di viaggiare leggeri fatta la lista disponete tutte le cose sul letto separatamente per categorie io ho messo sul letto ovviamente un telo per far sì che non si sporchi il lenzuolo sotto e per poter mettere diciamo le... per poter appoggiare le cose con naturalezza allora da una parte ho messo le scarpe quindi io controllerò se ho portato tutte le scarpe che mi servono in questo caso sì, le scarpe col tacco ci sono, le sneaker ci sono poi ne avrò un paio indosso quindi tutte le scarpe che mi servono le ho portate dall'altra parte ho messo i vestiti tutti adebitamente arrotolati poi vi farò vedere perché quindi i vestiti ci sono shorts, camicine, magliette per il giorno, per la sera, c'è tutto poi ho messo le borse e i cappelli lì in fondo che poi vi farò vedere come andranno disposti nella valigia dopodiché i costumi che sono lì la biancheria che è qui le ciabatte da mare vicino ai costumi ci sono sia le mie che quelle di Mr. X qua ci sono le magliette di Mr. X là in fondo ci sono tutti i vari miei accessori eccetera quarto punto importantissimo create degli outfit io spesso e volentieri mi portavo un sacco di roba perché non creavo gli outfit prima per cui mi portavo 100.000 scarpe perché non sapevo se con quei pantaloni sarebbe andato bene quella scarpa piuttosto che un'altra non sapevo se con quei jeans sarebbe andata bene una camicetta piuttosto che un'altra mentre invece creare degli abbinamenti vi fa risparmiare sicuramente tempo vi permette di sapere esattamente che cosa portate in valigia e assolutamente di scegliere un paio di scarpe che magari va bene per più outfit o scegliere un pantalone e più cambi top sopra io per esempio ho portato per il giorno i miei shorts preferiti che sono quelli che ho preso a Las Vegas più qualche cambio che può essere una camicina delle canotte queste nella fattispecie sono quelle che ho comprato da Zara ve ne avevo già parlato queste canotte soprattutto questa che è color crema è possibile utilizzarla anche con questo pantalone che è di un haul che vi farò presto lo vedrete in un haul che vi farò presto con questo pantalone se voglio ho portato un cambio una maglietta nera piuttosto scollata e un top bianco che è quello di New Chic che vi avevo già fatto vedere per la sera ho portato oltre al pantalone due vestiti lunghi che non voglio farvi vedere qua perché ve li farò vedere in un haul e in un lookbook perché sono acquisti nuovi e questo è tutto poi ho cercato un paio di scarpe che andassero bene per il giorno e ho deciso di portarmi queste nuove di vitamina 2 che vi ho fatto vedere già in un haul che sono sneakers bianche bellissime e mi vanno molto comode e invece per la sera quando voglio mettere i tacchi ho pensato di portarmi queste con i profili in oro dato che l'oro sta bene con tutto sempre per la sera porterò la mia borsetta di Jasper Conran che ha appunto gli hardware in oro e che essendo color crema e nera si può praticamente abbinare con tutto sta bene sia con il rosso che con il blu poi ho deciso di portare due cappelli da spiaggia perché mi piacciono veramente tantissimo questo di Bruno Carlo che l'avete già visto in un mio haul nel mio primo haul estivo e questo anche questo l'avete già visto in un haul di Primark che avevo preso da portare a Cuba appunto di Primark questi due cappelli appunto per far sì che stiano più comodi ma lo vedremo nel quinto punto li ho messi uno dentro l'altro in modo tale da non sformarli e da farli rimanere più compatti all'interno della valigia ovviamente ho portato dei costumi lì dentro ci sono dei costumi di Ted Zenis che ho preso ultimamente ve li farò vedere appunto in un haul andiamo a vedere il quinto punto ovvero come infilare tutta questa roba nella valigia e farcela stare perfettamente allora il quinto punto è riempire la valigia con criterio e voi direte grazie Eller ma che criteri vi faccio vedere subito allora innanzitutto la prima cosa che vado a mettere sono i cappelli e la biancheria perché? perché all'interno del cappello proprio per far sì che non si sformi la parte della testa andrò a riempirlo con tutta la biancheria sia quella mia che quella di Mr. X quindi calzini, boxer slip io non ho gli slip ho dei tanga perché non amo la biancheria quindi tutto quello che è biancheria andrà messo qua dentro in modo tale da andare a riempire la forma del cappello dopodiché questo cappello lo giro e lo metto di piatto nella valigia qui intorno andrò poi a disporre le varie cose sulla parte bassa della valigia metterò le cose più rigide come per esempio la borsa e lì metterò le scarpe metto le ciabatte da mare o comunque da spiaggia le scarpe le metto tutte dentro una dust bag questa in particolare è quella di organic shop molto carina ho messo le sneakers e in questa di velluto metto le scarpe dorate intorno adesso vado a riempire con i vari vestiti che sono stati arrotolati bene la mia valigia è praticamente pronta non è eccessivamente piena le cose non sono schiacciate e posso andare in vacanza quindi non mi rimane che augurarvi buone vacanze e chiedervi un commentino su come fate voi ad organizzare la vostra valigia se vi è piaciuto il mio modo di organizzarmi se invece non vi è piaciuto se avete qualche tecnica da suggerirmi non si finisce mai di imparare per cui ve ne sarò veramente grata se lo farete con un bel commentino e se aggiungerete anche un cuoricino un cuoricino che mi farà capire che avete visto il video fino a qua se il video vi è piaciuto vi chiedo un like iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel io vi mando il solito bacio e tantissimo ma tantissimo amore ciao 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 ciao